Il Presidente della Repubblica Puntuale, poco prima delle 11, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato all'Università Federico II di Napoli dove oggi iniziano le celebrazioni per gli 800 anni dell'Ateneo Laico più antico del mondo. Mattarella ha presenziato all'inaugurazione dell'anno accademico, poi si è recato al complesso universitario di Scampia Polo Fedriciano delle Professioni Sanitarie per il taglio del nastro dei primi ambulatori medici specialistici. All'inaugurazione dell'anno accademico presenti tra gli altri il Ministro dell'Università Anna Maria Bernini, il Ministro della Cultura Gennaro San Giuliano, il Governatore della Campania Vincenzo De Luca e il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Oggi avvertiamo un peso, ma è un peso leggero che ci spinge verso il futuro, è una grande gioia avere Mattarella che visita due sedi, Bocelli che canta l'inno, direi che abbiamo toccato il momento più alto. Le parole del Rettore Matteo Lorito. Io credo che noi oggi potremmo ascrivere tutta l'attività che facciamo qui in Federico II a quella che potremmo definire l'Italia migliore, quell'Italia dell'accoglienza, quell'Italia della cultura, quell'Italia delle opportunità che è un po' l'idea, la base della nostra istituzione e di tutto il sistema universitario nazionale. Questa è la giornata di tutti i federiciani, di chi ha studiato in quest'università, di chi ci ha insegnato, di chi ha fatto ricerca. Questa è casa nostra ed è anche la casa di tutta la città, sono invece le parole del primo cittadino di Napoli, Gaetano Manfredi, prima dell'inizio dell'inaugurazione dell'anno accademico. È un bellissimo riconoscimento, Mattarella a Scampia, anche un riconoscimento per la città, per quel quartiere, per le tante periferie che stanno trovando una nuova occasione di rilancio. Poi la visita del capo dello Stato a Scampia per i nuovi laboratori che entreranno in funzione a dicembre. Un cammino lunghissimo, quello della Federico II, iniziato il 5 giugno del 1224, quando l'imperatore Svevo, nonché re di Sicilia, da Siracusa emanò l'editto istitutivo della Federico II. Una mission di alta formazione laica e pubblica che è stata la bussola in questi otto lunghissimi secoli. In arrivo a Napoli oltre 200.000 cartelle esattoriali per recuperare l'evasione di Imu e Tari. Palazzo San Giacomo cerca così di appianare i debiti sul versante riscossioni, stanando i morosi. Ne abbiamo parlato con l'economista Gianni Lepre. Sono in arrivo dal comune di Napoli 200.000 cartelle per il mancato pagamento di Imu e Tari. È giusto pagare le tasse, però altrettanto giusto che il comune adegui i servizi per i cittadini e per il turista che sta premiando Napoli. Inaugurata lo scorso 27 luglio e prorogata per due volte a gran richiesta per il grande successo sia di pubblico che di critica, la mostra dalla muraglia al Vesuvio di Nicola Rivelli si è chiusa con un finissage particolarmente seguito. La mostra, una sorta di personale che riporta l'Estremo Oriente a Napoli, codificandolo nella cultura partenopea, ha visto Rivelli esporre le sue opere più significative all'interno del Palazzo delle Arti di Napoli, in un percorso tanto articolato quanto suggestivo. Classicismi, postmodernismi e culture che si intersicano e si combinano. Ecco le parole del maestro partenopeo durante l'appuntamento. Non ci aspettavamo che facendo partire una mostra il 27 luglio, in estate in cui noi andiamo a mare, andiamo, partiamo, chi va in vacanza, eccetera, invece c'è stata un'affluenza enorme di turisti. Dalla collezione Villumiera a quella Napoli Regina, da sulla via del Corallo fino a Camasutra Fluido e face Martefici. Così il primo piano del complesso museale del PAN si è trasformato in un labirinto di busti, sculture e tele, capace di stregare gli avventuri. Ascoltiamo Willy Zucco, responsabile di Spazio all'Arte a Roma, dove Rivelli aveva già esposto una parte di quanto poi portato al Palazzo delle Arti di Napoli. Sono contento di essere qui a vedere la mostra di Nicola, dove c'è tutto un po' il suo repertorio, dalle pipe ai coralli a queste sculture Kamasutra, e ovviamente i Cosmi Bullitz, alcuni trasformati in preziose lampade. Tra i tanti ospiti del Finissage, anche il dottor Nicola Capuano, direttore dell'UOC di Ortopedia e Traumatologia dell'ospedale Fatebene Fratelli di Napoli. Anche questa sala è testimonianza di una grandissima opera, il panorama di Napoli, tutto il golfo che parte da Coroglio fino al porto di Napoli, fatta tappa per tappa, descritta dall'artista, fatta con una barchetta a remi. E quindi lui ha voluto immortalare ogni singolo scatto di questa città meravigliosa. L'amore non era mai sbocciato, ma adesso è davvero al capolinea la storia tra il tecnico Rudy Garcia ed il Napoli. La sconfitta interna contro l'Empoli ha sancito la fine. Colpe da debitare un po' a tutti, ma pagarne le spese non può che essere l'allenatore francese, con il quale ambiente e squadra non è mai scattato il feeling. Sono ore frenetiche. Il presidente dell'Aurentis è a Roma, nella sede della Filmauro, per trovare soluzioni rapide. Si cerca il sostituto di Garcia. Situazione non semplice. I nomi sono sempre gli stessi, ma non può a questo punto essere esclusa nessuna ipotesi e sorpresa. In Pol ci sarebbe Tudor, che ha chiesto un contratto biennale ed almeno 2,5 milioni a stagione. Ma la società azzurra è alla ricerca di un traghettatore. Anche se De Laurenti si ha tentato ancora una volta di far cambiare idea ad Antonio Conte. Ma l'ex CT dell'Italia ha ripetuto il suo no grazie, sempre per le solite questioni familiari. Quindi serve qualcuno che possa portare al termine la stagione, si accontenti poi di lasciare il posto ad un altro, a luglio, che possa aprire un nuovo ciclo. E in questo caso il favorito sarebbe Vincenzo Italiano. Quindi nei piani rientrano due vecchie conoscenze con pretese non troppo alte. Walter Mazzarri. L'altro è l'attuale CT della Slovacchia, Francesco Calzona, ex secondo di Sarri. Magari con Amsic. Tutti e due sono i piani B, ovvio, ma rispondono all'identikit che piace a De Laurentiis, disposti anche a rimanere otto mesi. In realtà, cosa che sarebbe disposto a fare anche Fabio Cannavaro, ma il suo nome al momento non rientra nell'elenco del patrono azzurro. Grazie a tutti.